Look behind you Che stasano Blitzkronk? Bella Sì sì l'ho visto l'ho visto Madonna Quanto è stupida sta cosa che mi posso muovere nei cespugli Parecchio Wow Cioè il nuovo team è sbagliato Lo vogliamo dire che è sbagliato? Sì Ma proprio team in generale è sbagliato C'ho Vlad top Bene Eeeh Scemo Dai quanto è stupido Timo così Io ho da FK farming e devo farmare le mie monete Le mie 500 monete Ci hanno perso uno Oh mio Quanto è poco simpatico Vladimirtom Te guarda No vabbè Ecco Oh 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 E' che un bagno è qua Ti ha Aaaaaah C'è salito in top Sono vivo Sono vivo Non avevo paura Comunque raga Vi farò vedere team tank Che ne dite Team tank con un po' di ap No fatti team tank ad con il mall Please So 10 top 10 10 Kill Kill Live violendo Nooo Vabbè era proprio il mio anche volevo Ci stavano Ma non lo so Ma devi dire tu Ma se vuoi ci andiamo Vai push a sta wave andiamo Ma cosa niente Ma questo pusha pure lui Fa male però Fa molto male Salute Grazie Io pensavo che erano una skill di GP Paraparaparaparaparam Paraparaparaparaparap Ci tirò Yeezy Lancia il fungo Lancia il fungo Risolido ninja Ce l'hai 300 300 di ping È buono che ne hai 300 no? Cazzo, m'ha visto! M'ha visto, m'ha preso! Io penso che mi dovrei fallare. No, guardalo! Valla uccide, valla uccide, valla uccide! Eh, ci sto andando, no? C'è morto, eh? C'ho provato, salvato. Tira una doccia. Vai, è morto! Non ha la pozza, non ha la pozza! Bello. Però se questi jungler non gankano... Dai! Dai! Vabbè, vabbè! Quanti gold hai, Ken? Eh, 1580, senti, in teoria ci apri la BF, ma non la voglio comprare la BF. Avete presente che dovevo venire bot? Ci vengo. Vieni più? Pam! Pam! Stupido. Stupido che nel nome ci ha scritto Rito. Nooo, Rito no. Rito, please. Hai detto proprio che volevo un ultito così si rubò tutto il farm? No! 8! Ho finito il mana! Serve una mano! Dai, ma sto coso ciuccia come può Sasha Gray. No titolo per il video. Guardalo, guardalo! Dai! Avvivo! Avvivo! Bello! Ho criptato il mini. Eh, vabbè! Sei tu signor! Metti un barile qua! Muore! Bravo! Best gank Norvegia! Siamo questo è quello che provo io quando tu vieni bot tipo... Guarda, guarda la bot lane! Ma io vuoi di ramparle nel culo? Non ci credo, le forza te Ken! Ok, mi sono fatto il mio muretto dei satelliti. Ho fatto l'accampamento profughi. Il top è diventato la nasa. Però il jungler non ganka. Ciao Masarone, stiamo registrando un video. Saluta! Ciao Masa! Ciao mamma, sono su YouTube! Lo sai chi sta usando top? Perché l'hanno appena reworkato. Ah no! Gangplank! No! Garen! No! Darius! Mordekaiser! No! 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 Scusa se ti ho deluso però! Ragazzi! Vladimir è un bastardo... Vabbè... Cosa fai? Rubble farm! Rubble farm! Ma dai, perché ero tu il mio farm? Ehi! Quello sono io! Non mi imitare sta fatto! Badina qui! Vabbè, io vado mid a trollare un po' ninja. Attimo jungler! No, no! Attimo top lane! Dai! Dai che cazzo ti voglio gankare che è stupido come una capra! Ci stai ninja! Fa schifo ai gatti! Stunnalo! Eh! Hanno fatto il drago! Ho detto stunnalo! Qui li tiene qua! Stava lì sopra! Stava salendo... Ciao! Si vabbè, ma... Sto coso è un bastardo! Ha flashato pure di non fassi prendere da me! E' qui! E' lì! E' lì! Ci deve un blu? Ci stava inna! Ci stava inna! Eccola! Eccola! Rippate tutti dal potere di Teemo! E ne sei fatti un paio! Ti ho paura da... Troccia! Troccia! No! Tripla! Vieni qua! Troppo easy! Ihhh! Uccidiamolo! Triple kill! ecco una due oh 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 gatto gatto non dire gatto se non ce l'hai nel sacco raga però pulite quando sporcatevi a terra stunnalo stunnalo bravo ninja bravo 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 allora usano le pink in normal contro teemo che kill di puttana cioè fanno schifo alle proprie madri questi arriva mamma c'è di thin dietro c'è di thin e kill non è morto un regalino per i mori del sangue andiamo dove vai quale gattiveria attraggio di sia con quale gattiveria abbiamo fatto questa cosa un barile 10 gold sì signori da qua viene signore c'è un muo signore c'è un muo per lei Ma guarda ninja con quale maestria ha fatto sta cosa Ma non c'è più la torre Diciamo che io me ne vado E metto il mio barile Sì ma piene uno però E ne metto un altro E ne metto un altro E sono in cold down 3 secondi 0 Ho preso la torre Però vedi se non sono l'unico stronto Dare che è in planca di carry Raga io sto dietro Mamma mia nascostissimo Ah ma tu sei lì E' fatta C'è qualcuno qua l'ho visto Vai via Ah ma c'è il team Che non l'avevo visto Che dirà la fase preferita di ninja Pam 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 uccidete questo Ho ucciso Ok Ho fatto un true damage Gli ho fatto Vabbè quanta gente c'è di qua No no questo no Questo no Arrivo Lancia il fungo Perfetto Andiamoci Madonna che danno Che cosa è successo Guarda guarda lancio l'impionico del fungo Ancora Ancora Fungo Guarda vai io mi fermo Io mi fermo Venite qua Venite qua Fate il bait Guarda vai io mi fermo Lola Lancia il mare Lol Ah sì Arrivo su Vayne No vado a dolly si mamma mia va 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 lessito ma morto perfetto ragazzi bravi così bravi così fugo sylva eccl emotivo ven di qua dai dove sei morto tu no ai o ai e scappa oh c'è l'izin No Lizzyn vai via Non ha la ulti Non ha la ulti Ok non ha la ulti Non si sa che non ha la ulti Non morire però Ok non ha la ulti Ma che danno Buia Ragà adesso insegna comunque A giocare a cosa A giocare a team o tank Tranquilli farò Un learning Dov'è il tuo frozen mallet? Lanciamo un po' di funghi Lancia funghi Tutti qua Vai poi mi fermo in lane Metti i funghi qua Mamma mia quella Ciao Ah 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 GG Comunque ragazzi Sperando che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare tanti mi piace Iscrivetevi al canale Iscrivetevi all'instagram Passate sul mio instagram Andate sull'instagram Di cose sono spesso alle minchie Ciao ciao Ciao